Studi odontoiatrici aperti nonostante l'emergenza Covid-19 è una professionalità fondamentale per la collettività. Torniamo all'argomento odontoiatria per fare un po' di chiarezza. Innanzitutto bisogna ricordare come 13 odontoiatri abbiano perso la vita per adempiere al loro impegno professionale finalizzato alla cura dei pazienti. Una categoria questa al pari dei medici che ha sempre accettato i rischi connessi alla professione con il preciso intento di attenuare la patologia della popolazione. Detto questo voglio precisare che gli studi odontoiatrici non sono chiusi. Il decreto ministeriale del 22 marzo ne autorizza l'apertura riconoscendo il servizio di grande importanza per la collettività. La limitazione ai trattamenti di urgenza è una scelta di responsabilità da parte degli studi odontoiatrici per evitare lo spostamento dei cittadini in un contesto epidemico ancora in atto. È per il bene della collettività che gli odontoiatri hanno limitato gli affollamenti nei loro studi. Non bisogna dimenticare che loro sono addestrati ed attrezzati da sempre nel prevenire la diffusione di qualsiasi contagio. Non esistono dunque protocolli di legge o regole che al momento impongano un divieto. C'è solo un tavolo tecnico ministeriale che sta approfondendo alcune tematiche in materia sanitaria. I cittadini devono quindi continuare a rivolgerci al proprio dentista come hanno sempre fatto senza nessun timore o preoccupazione alcuna perché sono professionisti preparati e deontologicamente corretti. L'ordine dei medici e degli odontoiatri sono i referenti istituzionali preposti a fornire ai cittadini chiarimenti sulla sicurezza e importanza dei trattamenti sanitari.